Tempo in peggioramento nel corso di domenica al centro nord Italia, è brevissima la tregua dal maltempo, guardate questo ennesimo fronte perturbato che con agilità e facilità dal nord atlantico raggiungerà, si tufferà sul Mediterraneo, piogge in arrivo da prima al centro nord, poi lunedì anche al sud, specie guardate la basso Tirreno e alcuni settori anche della Sardegna, ma attenzione alle nevicate che proprio domenica scenderanno a quote molto basse, quote collinari sull'arco alpino, fenomeni comunque deboli, non è tutto perché in settimana questa zona di bassa pressione ampia sul nord Europa invierà altri impulsi polari verso l'Italia, quindi situazione parecchio vivace, instabile, mercoledì e giovedì altra perturbazione da primo al nord, veloce scivolamento al centro sud, neve sull'Appennino a quote medio-alte mentre probabilmente qualche fiocco di neve a tratti fino in pianura al nord e poi venerdì e sabato altra perturbazione, quindi sarà una settimana veramente inaffidabile dal punto di vista meteo, dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.